Arisa è una delle insegnanti di quest'anno della scuola di amici e nella puntata di ieri, mercoledì 18 gennaio, durante l'usuale Daytime, è andato in onda il momento in cui la cantante rimprovera il suo allievo Wax, uno dei primi protagonisti della bravata di Capodanno. Arisa infatti cerca di far aggiornare il ragazzo, di far capire il suo punto di vista e le sue emozioni, ma resta comunque intrassigente e il suo rimprovero colpisce l'allievo che promette di non commettere più errori in futuro. C'è però un altro episodio che soprattutto agli utenti di Twitter, ma anche a me che seguivo comunque il Daytime, non è sfuggito, ossia il cambiamento di voce di Arisa, ve ne siete accorti? Arisa in questo discorso a Wax ha voluto far capire al ragazzo che ognuno deve prendersi le proprie responsabilità delle sue azioni e per questo le punizioni e i provvedimenti sono necessari e costruttivi, ma durante tutto questo monologo fatto proprio a Wax, Arisa ha cambiato completamente voce. Infatti Twitter, intendo a commentare l'improvero di Arisa nei confronti di Wax, non si è lasciato fuggire il fatto che la cantante abbia cambiato tono di voce, in maniera sorprendente perché di solito la voce di Arisa è molto sottile, acuta e nell'incontro con l'allievo è risultata essere molto più grave, diversa. Figuratevi che io stavo facendo delle faccende e ho detto ma è Arisa che sta rimproverando Wax? È veramente lei? Quindi un tono di voce completamente diverso, era giusto un aneddoto da dirvi, voi ve ne siete accorti? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!